Non hanno trovato un accordo le due società sportive che rappresentano il calcio in territorio modicano, il New Modica Calcio, ex modicanese, e il Frigintini Calcio. Fumata nera dunque dall'incontro di ieri a Palazzo San Domenico, dove non si è riusciti a sbloccare l'impasse che si era creato sul nome della nascente squadra unica, che vestendo i tradizionali colori rosso-blu tornasse a rappresentare la città di Modica. Il Frigintini, del presidente Colombo, militante in prima categoria, non ha voluto rinunciare il proprio nome, mentre la New Modica, ex modicanese, del presidente Carpentieri, militante in seconda categoria, ha proposto la denominazione New Modica Frigintini per il prossimo anno, per poi passare a Modica Calcio nella stagione successiva. Niente di fatto, l'incontro tra i rappresentanti dei due sodalizi sportivi è durato poco più di 5 minuti. Il tempo necessario al presidente del Frigintini, Salvatore Colombo, per dire che al Frigintini non interessa il progetto di fusione e al presidente della New Modica Calcio, Momo Carpentieri, per ringraziare dell'attenzione avuta nei confronti della sua proposta di far rinascere il calcio nella città della Contea, unendo le forze di due gruppi sotto il nome di New Modica Calcio. Il Modica Calcio riparte dalla seconda categoria, dichiara Carpentieri, con i colori rosso-blu della New Modica Calcio. Faremo domanda di ripescaggio in prima categoria, con l'intento, che è quasi un dovere per quello che rappresenta la tradizione calcistica modicana, di riportare presto la squadra in un campionato degno del glorioso passato rosso-blu. Capisco le ragioni della dirigenza del Frigintini, ma mi rammarico per l'atteggiamento di netta chiusura dimostrato. Spero che il sindaco, così come ha detto nelle precedenti riunioni, continui a considerare il Modica Calcio come la squadra della nostra città e che quindi faccia la sua parte. Ora ci metteremo a lavorare per il nostro progetto con l'appoggio dei tifosi, che sono già al nostro fianco e sono pronti a sostenere la New Modica Calcio. Il sindaco Ignazio Abate ha diffuso una nota dopo la fumata nera, assicurando che l'amministrazione andrà incontro alle due società sportive. Fallito il progetto di fusione, la New Modica Calcio spera ora quindi nel ripescaggio in prima categoria. Se ciò avvenisse, si potrebbero accorciare i tempi di una risalita della compagine modicana. Grazie a tutti.